Ciao a tutti i miei discepoli, ben ritrovati in laboratorio, con vostra santità Claudio Bonsai. Ok? Oggi torno a parlare di pini, pini silvestri, questo discorso che vi farò andrà bene sul silvestri, sul pino nero, sul pentafilla, pino rosso, bianco, pino blu, pino d'Aleppo, pini, ok? Quindi per chi avesse dubbi, per carità, per quanto riguarda manovre strane tipo mekiri, tamba, roba giapponesi, lì bisogna fare delle differenze, però per quanto riguarda coltivazione, potatura, bla 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 bla, stessa minestra e siete a posto con tutto, ok? Quindi meno segmentali e le piante non muoiono soprattutto, perché abbiamo visto che l'anno scorso è una bella distesa di Bonsec, no? Per quanto riguarda l'annaffiatura, perché ci sono un sacco di dubbi, semplicemente perché la gente fa le cose al contrario e continua a fare al contrario, quali sono i problemi? Poi continuano ancora di più al contrario, no? Perché il fungo, il fungo, no? Troppa acqua, il pino, il pino non si concima, eh no? La zeolite nel pino, eh no? Come sempre un mare di cazzate senza senso e poi chi fa le cose in un altro modo ha la pianta verde e sta bene e ve la faccio vedere a 360 gradi adesso, anzi, fermi tutti brutti porci, fermi, ok? E giù le mani. Questa è una pianta che ho intenzione di dare via, ok? Perché ho bisogno di fare budget, perché ho visto un'altra pianta che mi interessa, quindi via uno, avanti un altro, no? Quindi se siete interessati, contattatemi in privato. Questa è una pianta che nei negozi potete trovare, a parte che non la trovate, c'è dalla gran merda in giro, potete trovarla a, secondo me, 2000 euro almeno, ma secchi, 2000-2005 secchi, ok? E tra l'altro, vaso firmato John Pitt, quindi tanta roba, quindi un vaso firmato da uno che sa fare i vasi veramente, non un chi va là, ok? E tra l'altro ha anche smesso di farli, quindi pezzo da collezione assoluto, ok? Costa, costa solo il vaso, perché in realtà io quella volta l'ho preso, ho speso 120 in un'asta, non mi ricordo, però non era quello il suo prezzo, tranquilli. Torniamo noi, per quanto riguarda la questione, ah, ve la faccio vedere, ah, ripeto, perché dopo qualcuno dirà, ah, no, io mi sono perso una settimana fa il video, ho intenzione di darla via, quindi se siete interessati, mi contattate, la pianta è bella e sta molto bene, ve la faccio vedere. Super verde, dappertutto, come sempre, tra un po' mi annoio anche a dirlo, tutte le volte. E vi dirò, questa è una pianta che io in estate annaffio tutti i giorni, ok? Anche in primavera tutti i giorni, io i pini li annaffio tutti i giorni, ok? Prima di fare il mio discorso, no, perché adesso diranno, ah, però l'acqua, i pini, marcisce. Allora, primo, per quanto riguarda l'annaffiatura, ragazzi, come sempre, come in ogni pianta, tolgo un po' di roba, eh, perché ho tolto un po' di ferraglia. Come in ogni pianta, ragazzi, si annaffia quando il substrato si presenta asciutto in superficie. Fine. Fine. Chi vi dice, no, devono rimanere più asciutti, devono rimanere... Dipende sempre che tipo di substrato state utilizzando. Quindi se utilizzate un substrato che trattiene troppo umidità, a quel punto dobbiamo stare attenti veramente all'annaffiatura. Semplicemente perché avete fatto la cazzata prima, ok? Non perché il pino va annaffiato, ok? Quindi ho questo in estate, tutti i giorni, sempre, tutti i giorni, soprattutto perché sta tutto il giorno sotto il sole. Il vaso è un po' piccolino, però ok, è il suo. Quindi se uno sannaffia tutti i giorni, la pianta va incontro a problemi. Al massimo si salta un giorno, uno ogni due giorni, se il clima lo permette. Però ad agosto, ragazzi, se andate a sta cazzo di acqua, a un certo punto diventa un panetto secco. E non è quello che vogliamo. Quindi per quelli che vi dicono, annaffiate poco e vi state rendendo conto che la pianta inizia a fare gli aghi gialli, ok? Iniziate a dare subito acqua come se piovesse in abbondanza. Perché quando la pianta gli fa gli aghi gialli, quelli nuovi, è già finita. Cioè il ramo è già andato, ok? Quando inizia a ingiallire è già fatta la polpetta. Questo perché? Perché i pini sono quelle piante che ci mostrano i segni e i sintomi dopo. Ok? Quindi molto spesso la pianta è verde, verde, tutto bene. A un certo punto, brum, no? Perché a fuori di fare cazzate e a fuori di vedere la pianta verde sta bene, sta bene. A un certo punto il conto da pagare arriva tutto in una volta. E quando poi dopo arriva, molti dicono, no, attenzione, c'è un fungo, annaffia di meno. Ma se il problema è venuto fuori perché avete già annaffiato poco, perché davate l'acqua così col contagocce, potete capire che se date ancora meno acqua, la pianta morirà, muore. Ok? Quindi tutte quelle piante che sono morte quest'anno, cioè l'anno scorso, ragazzi, è colpa vostra e non del fungo. Perché i funghi, trachiamicosi, blablabla, tutte quelle pugnette, tutti quei nomi, no? Vengono soltanto quando il substrato è di scarsa qualità. Fine. Ok? Perché io posso annaffiare questo pino tutti i giorni, anche tre volte al giorno, quello che in più viene scaricato dal substrato. Ok? Questo è l'asso di briscola, questo è fare le cose senza guardare anche, perché si può, perché io quando annaffio le piante, in estate soprattutto, prendo, annaffio tutto. Tutto. Non è che sto lì, no, questo è un po' più sciutto, questo è no, perché io so che il substrato che ho messo io è fatto apposta per trattenere il giusto grado di umidità che serve a me e alla pianta. Ok? Quindi quando si passa con l'anaffiatoio, tutto, si annaffia tutto, si mette a posto e si va sul divano, in casa. Ok? Cinque minuti. Non che andate lì, no, ma però, una formichina, no, forse meno, un po' di meno, un po' di più. Che cazzo di seghe mentali che vi rovinano tutto, vi rovinano la festa. Ok? Quindi attenzione, cercate sempre di prendere materiale di qualità perché poi la qualità vi fa anche lavorare di meno, vi fa anche bestemmiare di meno. Quindi spendete cinque euro in più adesso e siete a posto. Capitolo concime. Ok? C'è molto luoghi comuni. Ah, ma no, ma brucia gli aghi. Brucia le punte, brucia, scarta, fuoco. Io questa pianta la concimo allo stesso modo di un olmo, di un leccio, di un cipresso. Questo perché? Perché quello che vi si racconta sono tutte cazzate, senza senso, perché le piante devono mangiare e quindi come deve mangiare un piro, deve mangiare anche un olmo, come deve mangiare e la pianta muore. Ma chi cazzo vi ha mai detto voi di concimare troppo? Cioè io non capisco ancora questo ragionamento. Un altro ragionamento. Amo se usi il chimico, la pianta poi muore. Il chimico sui pini non va bene perché ammazza le micorizze. Il chimico sui pini vi brucia gli aghi. Ragazzi, allora, la questione è questa. Ci sono dei prodotti che funzionano e dei prodotti che non funzionano. Quindi se li date, avete un risultato. Gli altri, se li date, non succede niente. Quindi danni non ne fate sicuro. Con i prodotti di Claudio Bonsai, se usate con la testa quello che vi do, e c'è scritto tutto nella scatola, quindi seguendo i dosaggi, problemi non ce ne sono mai. Perché quello che sto facendo io sulle mie, piante da 2-3 mila euro, quindi non capisco perché, bisogna preoccuparsi poi di cose. Se lo faccio io su piante di valore, voi che avete dei ciclamini o delle piante che ancora devono costruire e sparare rami, dovete capire che seghe mentali non ce ne sono. Se seguono le indicazioni, quello è ogni due settimane. Per chi ha messo il dubbio, per chi non capisce l'italiano, per chi comunque si ha sempre un cazzo di dubbio, perché nella vita ha solo dubbi, prima di somministrare mi mando un messaggino su WhatsApp, mi mando un audio e io dopo spiego nuovamente come vanno utilizzati i prodotti. Tra l'altro ho fatto un video anche, come si utilizzano i miei prodotti, quindi andate a vedere anche quello. Dubbi non possono esserci, ok? Tra l'altro, la pianta non mangia la merda di mucca o l'organico, l'intercessione. La pianta mangia l'azoto, il fosforo, il potassio, basta. Cioè, quello è il nutrimento che assorbe la pianta. Fine. Tutto il resto, ragazzi, sono favole raccontate ad oltranza, perché se io sto facendo poi una cosa a modo mio e le piante stanno meglio degli altri, vuol dire che a un certo punto uno dovrà anche rendersi conto di dove vive, no? Altro capitolo. Oggi è dura, oggi è dura. Il muschio soffoca le radici. Allora, qui, ragazzi, è una questione che posso anche essere d'accordo. Se usate un muschio che fa schifo, che avete raccolto per strada dove si pisciano i cammelli e buttate sopra e intoppate con la terra sotto tutto sporco e fa empa, usate lo sfagno, quello vi crea a un certo punto il muschio apposta che vi traspira, la pianta che traspira, mantiene il giusto grado di umidità e qui torniamo sempre al discorso qualità. Quindi materiali che dovete utilizzare, no? Cerca di capire una cosa che è fondamentale. Ragazzi, le piante comunque lavorano in due modi, ok? Due modi, punto. O vanno avanti o vanno indietro, ok? Anche la questione, ah no, questo è un prodotto per il mantenimento? No, ragazzi, la pianta o va avanti o va indietro. Se sta ferma, vuol dire che a breve inizierà ad andare indietro, ok? Fine, non c'è altro, ok? Quindi per quanto riguarda lo sviluppo delle piante, ragazzi, l'unica strada da prendere è quella di andare sempre avanti, più che si può, ok? Perché la pianta tenderà a rinforzarsi, a lavorare, a essere sempre in movimento, una pianta che è in movimento, una pianta che è destinata a stare sempre bene, ok? Quando maturerà bene, poi si può intervenire. Per quanto riguarda la potatura sui pini, visto che non si è ancora capito, non l'ha capito nessuno, perché ancora c'è gente che sta lì, ti, 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 ti. Non avete capito niente. Per far cacciare dietro una pianta, un pino, ok? Primo, c'è bisogno di nutrimento, perché se no non vi farà mai niente. Secondo, bisogna far saltare i rami, come si fanno sulle caducifoglie, ok? Ovviamente sui pini se lasciate zero il ramo tenderà a seccare, ho visto dai miei clienti fare potature a zero su dei pentafilla che sono bastardi, hanno cacciato anche nuove gemme da rami dove non c'era vegetazione, ok? Questo perché un fiume di TNT starter bonsai continuo ragazzi mi fa sparare anche da dietro come niente, ok? Quest'anno c'è anche C4 Bionic, fate voi, fate veramente voi, ok? Un'ultima cosa, abbiamo parlato di potature, annaffiatura, substrato, cosa ci serve? Torniamo sulla questione design, ok? Perché è fondamentale, intanto come ho già detto questa è una pianta che voglio vendere quindi ok, via, non è una cosa che farò io ma la farà il nuovo proprietario, se questa pianta mi rimane a me penso di andare a fare un restyling in questo caso, ok? Questo perché la mia idea lì era quella di tenere il mio storamo basso, però comunque sia può servire, può sempre servire per carità, però a un certo punto guardandola bene mi piacerebbe smontarla un pochettino e dargli un look più drammatico, ok? Questo si può fare su questo tipo di pianta, quindi su conifere soprattutto, su piante che hanno della dinamicità, della sinusità, del movimento, quindi qui dare un look drammatico e anche più vuoto è veramente secondo me una cosa fattibile, quindi sicuramente questo ramo qui mi saluterà e porterò avanti il discorso con questo qua di profondità, forse farò saltare anche questo per creare un bel gin qua davanti, bello drammatico e magari far scendere un po' di più questo qua, ok? Però si vedrà, preferisco darla via perché ho visto che c'è un altro pino silvestre che mi piace e io voglio tenere solo un pino in collezione, ok? Questa è la verità, ok? La pianta è bellissima, poche pugnette. Avanti tutta, ciao a tutti, mettete un mi piace su questo video, mettete un non mi piace se non vi è piaciuto, non c'è nessun problema, condividetelo con i vostri amici bonsaisti e andate, non andate lì, andate a bomba, perché bisogna tirar fuori qualcosa a fine anno, Cristo, non se ne può più tutta questa gente che sta lì, amo la mia pianta a dieci anni, la mia pianta a quindici anni, cazzo è sempre uguale, c'è qualcosa che non va a Dio Cristo, ok? Perché se dieci anni di lavoro sono serviti ad un niente, ragazzi, è un fallimento totale, ok? Non può essere un risultato, c'è avere una pianta che dopo dieci anni più o meno è sempre così, cioè o è finita ed è invaso bonsai e va sempre in mostra e vince dei gran premi, allora tanto di cappello non si tocca, ok, ma un pre bonsai che cazzo è uno stuzzicadente dopo dieci anni, ma allora che cazzo vi hanno insegnato? Cioè ho capito, avete fatto il corso, avete preso l'attestato, avete fatto un salto mortale all'indietro, avete fatto la cacca stamattina, allora siete contenti, ma cazzo, ma a sto punto, ma a queste piante le vogliamo trasformare, cioè concimate a bomba e mettete il filo e impostate questi benedetti rambi, ok? Perché bisogna dare un'impronta primaria per poi andare a sviluppare tutto il resto, ok? Ciao a tutti, mettete un mi piace, condividete questo video con i vostri amici bonsai, ci vediamo nel prossimo video e a breve ci saranno anche delle novità, ok? Ciao a tutti